Come gestire il tuo account MyShop MyShop è il tuo negozio online for life personalizzato e gestire le tue informazioni personali attraverso l'app for life è davvero semplice! Vai alla barra dei menu e seleziona MyShop Tocca l'icona delle impostazioni Iniziamo aggiungendo la tua foto del profilo Tocca l'icona del volto e scegli la foto di te stesso o te stessa che preferisci Attivando l'opzione Permetti iscrizione puoi scegliere di consentire nuove iscrizioni attraverso il tuo sito MyShop Ora aggiungiamo le tue informazioni personali Aggiungi il tuo nome, l'indirizzo e-mail e numero di telefono e scegli se mostrare il tuo rango sul tuo MyShop toccando l'opzione di setting relativa Il modo migliore per condividere il tuo MyShop con i tuoi contatti è condividere il tuo link personalizzato Puoi modificare il tuo link personalizzato toccando l'icona di modifica Assicurati di salvare il tuo nuovo link Tocca l'icona di condivisione per condividere il tuo link personalizzato con i tuoi contatti su qualsiasi piattaforma Oppure, tocca l'icona del web per accedere direttamente al tuo MyShop e visualizzare il sito come se fossi un cliente Per attivare o disattivare il tuo MyShop in qualsiasi momento tocca l'opzione Stato MyShop in basso e conferma la tua decisione nella finestra pop-up Mantieni aggiornate le tue informazioni per gestire correttamente il tuo MyShop in ogni momento Continua a imparare con ForLife e ottieni il massimo dalla tua app ForLife